Ciao, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Trisha e oggi vi parlo dei preferiti del mese di marzo. Marzo è stato un mese particolarmente intenso sotto tutti i punti di vista, ma anche altrettanto piacevole, quindi avrò un bel po' di cose da raccontarvi. Io direi però di iniziare come sempre dalla categoria più importante che è quella dedicata ai libri. In questo video non vi citerò tutti i titoli che ho letto nel mese appena trascorso perché settimana prossima uscirà sicuramente il wrap-up dedicato alle mie letture. Qui invece vi parlerò, vi citerò solo quei titoli che ho effettivamente apprezzato di più e vi darò giusto qualche informazione per capire un po' di cosa sto parlando, per darvi sostanzialmente un'idea. Il primo titolo che vi cito è I baffi di Emmanuel Carrère, che è anche stato uno dei primi libri che ho letto nel mese di marzo. Rappresenta il mio primo approccio a quest'autore, del quale non vedo l'ora di recuperare un po' tutta l'opera. È un romanzo che in realtà potremmo definire più che altro come un racconto o un romanzo breve perché sono solo 150 pagine, all'interno del quale con uno stile molto pirandigliano, con scene grottesche, spesso inquietanti. L'autore racconta di come questo protagonista perda la sua identità. C'è questo io che lentamente va disgregandosi dal momento in cui il protagonista decide di radersi i baffi. I baffi che da sempre sono un po' il suo elemento di distinzione, quell'elemento che lo va a caratterizzare dal punto di vista caratteriale e estetico. È un titolo che io ho apprezzato moltissimo, soprattutto per le atmosfere e per come viene trattata la tematica dell'identità e la perdita di quest'ultima, che ha però sicuramente dei difetti, nel senso che la prima parte è secondo me meravigliosa, molto interessante, permette proprio di addentrarsi in questa tematica, in queste atmosfere in maniera mediata, molto rapida. La seconda invece perde un po'. Io avrei preferito che questa seconda parte non ci fosse proprio, fatta eccezione per il finale che mi ha traumatizzata e disturbata, quindi qualora decideste di leggerlo ovviamente vi consiglio di andarci cauti e caute perché può essere un libro abbastanza disturbante. Ad ogni modo l'ho amato. Secondo titolo che vi cito è invece Ragazzi per bene di Olga Campofreda. In questo caso parliamo di tematiche completamente diverse, in particolar modo qui viene affrontato soprattutto il discorso relativo alla crescita delle ragazze di provincia, su quali siano i principi e i valori con cui queste ragazze vengono cresciute e qual è poi il loro rapporto nei confronti di questa tipologia di educazione. Nello specifico qui viene analizzata, viene raccontata la storia di Clara che lascia Caserta durante gli anni della gioventù e dell'adolescenza e vi ritorna soltanto periodicamente per una serie di questioni familiari. Io l'ho trovato un titolo molto interessante, sicuramente non perfetto, ci sono moltissimi difetti soprattutto in cui viene trattata questa tematica. È come se avessi letto qualcosa di visto e rivisto, di abusato in narrative e letteratura, però è molto interessante il fatto che questa narrazione sia portata avanti da un punto di vista femminile, perché secondo me è un aspetto che soprattutto nella letteratura contemporanea italiana spesso manca. In più, per essere un esordio letterario, lo stile dell'autrice è comunque già molto interessante. Secondo me, lavorando ancora un po', potrebbe effettivamente venire fuori un bel romanzo futuro. Infine, ultimo ma non per importanza, vi cito un saggio. In questo caso parliamo di Specchio delle mie brame, La prigione della bellezza di Maura Cancitano. Un titolo che volevo leggere dall'anno scorso, cioè praticamente da quando è uscito, in cui si affronta il discorso relativo alla bellezza femminile, a come questa possa rappresentare una sorta di prigione, proprio come ci dice il sottotitolo, soprattutto nella società attuale. Però quello che ci racconta l'autrice è che questa gabbia dorata non è stata creata così all'improvviso, ma è venuta a costruirsi nel corso del tempo, in particolar modo andando ad intersecarsi con tutta un'altra serie di aspetti che la società patriarcale rende quasi obbligatori nei confronti delle donne. Si tratta di un punto di vista molto interessante, soprattutto perché all'interno di questo saggio, che è sicuramente molto breve, si trovano soprattutto riferimenti e richiami anche ad altri saggi, ad altri libri, a serie tv, ad opere cinematografiche. Quindi può essere utile anche come primo approccio alla tematica e come luogo in cui conoscere tanti altri titoli. Allora, con i libri abbiamo effettivamente finito, perché come vi ho detto sarei stata molto veloce, e direi di passare ai film. Il film, il titolo più bello che devo citarvi è sicuramente Aftersun. L'ho visto proprio il primo marzo ed è un film che mi ha lasciato tantissimo. Racconta di quest'estate passata in un motel da un padre molto giovane e dalla figlia dodicenne, tredicenne se non sbaglio, e di come quest'estate resterà poi una sorta di ricordo dolce amaro nella vita della ragazza, della bambina. È un film molto delicato, molto estivo anche, secondo me sarebbe proprio bello vederlo in estate soprattutto, però ho apprezzato tantissimo la fotografia, la performance degli attori. Anche la colonna sonora mi è piaciuta molto perché va letteralmente ad accompagnare tutte le scene del film in questo crescendo emotivo che vi lascerà poi alla fine con una profonda amarezza. Le tematiche trattate sono soprattutto il rapporto padre-figlia, ma sono anche quello della salute mentale e della depressione, quindi sicuramente un film non adatto a chiunque. Poi ho visto al cinema The Whale e mi è piaciuto molto, devo dire la verità, ha fatto eccezione per la scena finale, però anche qui un film molto emozionante e doloroso e ho amato soprattutto Sadie Sink nei panni di questa adolescente un po' ribelle, complessa, sfaccettata, ma ha regalato veramente una performance fenomenale, così come anche il protagonista. Devo dire che mi è piaciuto molto ovviamente l'esperienza in sala, ma soltanto ad acuire ancora di più queste sensazioni. Ho visto il documentario di Miley Cyrus dedicato all'ultimo suo album, cioè Endless Summer Vacation, e all'interno di questo documentario la cantante va a descrivere, va un po' a raccontare qual è stato il processo creativo dietro a questo album, cosa vuole effettivamente comunicare con questo disco e soprattutto la spiegazione dietro alla maggior parte delle tracce. Io ho molto apprezzato questo prodotto, perché Miley Cyrus è un'artista che io apprezzo moltissimo sin dalla mia infanzia, ma che secondo me con questo album ha raggiunto una complessità e una completezza a livello di arte, che va sicuramente ascoltato, cioè l'album va ascoltato, tenendo anche in considerazione di questa sua spiegazione, molto interessante. Poi ho visto The Killing of a Sacred Deer, che sarebbe una sorta di horror psicologico, un thriller, con elementi mitologici, è stato molto interessante, soprattutto gli attori pazzeschi, abbiamo Colin Farrell e Nicole Kidman. Non è un film, secondo me, perfetto, ha sicuramente molti difetti, però ho amato il senso di ansia, di paura, di angoscia, che può creare all'interno del pubblico, nonostante non accada effettivamente niente di estremamente pauroso. Poi, giusto per citarveli, anche se in realtà non mi hanno fatto impazzire, vi dico che ho anche visto Sette donne, un omicidio se non mi sbaglio, che sarebbe una commedia italiana, non mi ha fatto impazzire, poi ho in realtà capito che l'opera era nata con una natura teatrale, infatti si vede molto questo aspetto, le attrici sono soprattutto attrici di teatro, non è malissimo, però per passare un'oretta, un'oretta e mezza, tranquillità, può effettivamente essere il titolo giusto. E poi ho recuperato Midsommar, con Florence Pug, che è fenomenale, ho visto Il Prodigio, con la stessa attrice, e questo devo dire che mi è piaciuto molto di più di Midsommar, che ho trovato estremamente lungo, caotico e a tratti anche lento, un po' no sense, e invece Il Prodigio l'ho già preferito di più, per quanto anche lì molto angosciante, molto pesante, e poi ho visto finalmente, dopo tanti anni in cui le persone me l'hanno consigliato compulsivamente, anche Viper Vendetta, anche lì, bellissima la performance degli attori, bellissimo il messaggio, però non mi ha fatto impazzire, se devo essere sincera. Ovviamente un bel film, però non tra i miei preferiti. Parlando invece di serie tv, ho finalmente recuperato Ted Lasso, la seconda stagione, durante il mese di marzo, e parliamo qui di un prodotto televisivo, un prodotto commerciale, secondo me costruito ad hoc, soprattutto per l'insieme di sentimenti positivi, che vengono veicolati, dal personaggio di Ted Lasso, un po' da tutta la squadra del Richmond, e poi ho iniziato anche la terza, perché ogni mercoledì esce un nuovo episodio. Sicuramente la serie tv, però, del mese, è Severance, tradotta in italiano con scissione, che posso descrivervi, semplicemente, come un connubio tra The Office, Black Mirror, quindi due dei miei prodotti televisivi preferiti di sempre, uniti ad un'unica serie tv. Anche qui le atmosfere sono particolarmente angoscianti, ansiogene, ci sono delle scene anche molto forti, in alcuni casi ho dovuto stoppare effettivamente le puntate, però c'è una performance, c'è un discorso, una morale dietro a questa serie tv, che vi farà rimanere, proprio attaccate, e attaccati alla televisione. Per me, veramente, un prodotto perfetto. Poi ho visto The Power, che però ancora non è terminata, al momento sono solo tre puntate, sono sicura che la continuerò, ed è tratta dal titolo Ragazze Elettriche, che è anche un libro che avrei voluto leggere, per il momento sto recuperando la serie tv, ed è molto ben fatta. Poi ho visto, finalmente, LOL 3, che assolutissimamente, non è all'altezza, nelle prime due stagioni, è sicuramente, un prodotto televisivo, commerciale, che può rappresentare, un'ottima valvola di sfogo, e di tranquillità, per passare proprio, un paio d'ore, senza fare niente, rilassati al massimo, però, fatta eccezione per Nino Frassica, non mi ha fatto impazzire, mi dispiace molto, perché LOL, era proprio uno di quei, prodotti che io, apprezzavo di più, che aspettavo con più ansia, in questo periodo. Poi ho visto, Roar, anche qui, una serie molto interessante, si tratta in realtà, di una mini serie, in cui ogni episodio, di circa 30 minuti, è dedicato, alla storia di una donna, si trattano, tematiche molto diverse, però, il nucleo fondamentale, è un po' sempre lo stesso, cioè, mostrare, qual è la realtà quotidiana, di ogni donna, all'interno di una società, patriarcale come la nostra. E poi ho visto, Kank on Earth, che invece trovate su Netflix, che è una docu-serie, molto corta, in cui questa giornalista, Filomena Kank, con un umorismo, specificatamente inglese, racconta un po' quella che è, tutta la storia dell'umanità, quindi dai primitivi, sino ad oggi. L'ho trovata molto, divertente, più che istruttiva, però sicuramente, si possono anche, trarre una serie di informazioni, di cultura generale, e di storia. Invece, per quanto riguarda, la categoria della musica, come vi dicevo prima, ho recuperato, il documentario, di Miley Cyrus, ovviamente, ho anche ascoltato, il CD, Endless Summer Vacation, del quale, le mie tracce preferite, sono ovviamente, Flowers, Jaded, e Muddy Feet, con Sia. È un album, secondo me, perfetto, un album in cui, si sente molto, la maturità, di Miley Cyrus, che affronta, tematiche diverse, però, è soprattutto, legato, all'indipendenza, che, l'artista ha trovato, nel momento stesso, in cui, la sua relazione, è venuta a meno, nel momento in cui, ha scoperto, tutta una serie, di tradimenti, però, cambia, diciamo, i temi sono, molto variegati, infatti, consiglio di recuperare, il CD, e al contempo, anche il documentario, poi, marzo, è stato il mese, in cui, è iniziato, effettivamente, il D'Eras Tour, di Taylor Swift, e quindi, come ogni mese, io vi cito, Taylor Swift, perché, la sua musica, è immancabile, la colonna sonora, delle mie giornate, quindi, assolutamente, tutti i suoi CD, ascoltati e riascoltati, di continuo, e poi, vi cito anche, una canzone, che si chiama, A 26-27 anni, di Maggio e Giumo, ed è una canzone, che ho ascoltato, moltissimo, perché, a marzo, come avrete, intuito, dai vari video, usciti, precedentemente, a questo, è stato il mese, del mio compleanno, e ho compiuto, effettivamente, 26 anni, Spotify, mi ha proprio, suggerito, questa canzone, l'ho così scoperta, ed ha un testo, secondo me, meraviglioso, anche qui, molto nostalgico, ma, soprattutto, che mi rappresenta, tantissimo, e, cioè, per quanto riguarda, gli eventi, sicuramente, il mio compleanno, che ho festeggiato, in due momenti diversi, il giorno, con la mia famiglia, sono stata, veramente, benissimo, abbiamo mangiato, in questo, agriturismo, che è gestito, da un amico di famiglia, e, ho passato, veramente, una mattinata, e, un primo pomeriggio, molto, molto, emozionanti, perché, amo sempre, stare con, con la mia famiglia, abbiamo mangiato, molto bene, c'era un bellissimo sole, e, niente, quindi, assolutamente, questo momento, di marzo, e poi, ovviamente, la sera, ho festeggiato, con le mie amiche, vedete, che qui, abbiamo ancora, un po' di, rimasugli, della festa, mia mamma, ha deciso di, lasciarli attaccati qui, e, anche la sera, è stato molto bello, mi è piaciuto, soprattutto, come avevo allestito, anche se, in realtà, non stavo, proprio benissimo, a livello fisico, poi, un altro evento, che vi devo, assolutamente, citare, è stata, è stata la sfilata, dell'8 marzo, che, si è tenuta a Salerno, è stata, organizzata, da alcune, da alcuni enti, del territorio, da alcune ragazze, e ho preso parte, anche io, ed era dedicata, appunto, alla giornata internazionale, delle donne, si è parlato, di diversi argomenti, ed è stato, molto, molto piacevole, circondarsi di persone, che, effettivamente, la pensano, un po' come me, poi, appunto, come vi dicevo prima, è stato un mese, un po' stressante, perché mia madre, aveva dei controlli, e per questo motivo, sono scesi, i miei zii, dal nord, con mia cugina, e, siamo stati, un po' tutti insieme, e, anche qui, è stato, molto, molto bello, molto, rilassante, ecco, stare in compagnia, invece, per quanto riguarda, la categoria del cibo, ho diversi, piatti, da citarvi, che sono stati preparati, quasi tutti da me, il primo, che vi cito, è questo piatto, di spaghetti, con, diciamo, colorati, con, una crema, di cavolo rosso, e poi, con, base, di parmigiano, una crema di parmigiano, e granella, di pistacchio, poi, ho fatto, con, l'acqua, colorata, che è uscita dalla cottura, del cavolo rosso, questo riso, che doveva venire blu, ma in realtà è diventato verde, l'aggiunta del bicarbonato, ed è piaciuto un po' a tutti, era un riso semplicissimo, però, ha conquistato un po' tutti i palati, poi, ho fatto, queste patate dolci, al forno, con ceci, feta, e, una crema di avocado e lime, anche queste sono venute molto buone, però, ho sbagliato un po' la cottura delle patate dolci, infatti, è una pietanza che vorrei riproporre prossimamente, poi, ho fatto una gricia buonissima, ho preso la ricetta da Wilwus, e cucina buttata, di qualche anno fa, di questa, però, purtroppo, non è una foto, ma anche qui posso assicurarvi che è piaciuta a chiunque, poi, ricetta del mese, il cavolo rosso e un agrodolce, in realtà, il cavolo rosso è proprio il cibo, del mese di marzo, e poi, i miei frullati, perché è il periodo in cui, arriva la frutta che io preferisco, cioè le fragole, i frutti rossi, le banane, e via dicendo, e mi preparo sempre questi super frullati, con yogurt, frutta, latte, e un pezzettino di cioccolato fondente, e io li amo, ci sto bene tutto il pomeriggio, riempiono tantissimo, e danno tanta carica, tanta energia, infine, per quanto riguarda la categoria make up, vi cito una serie di prodotti di Astra, che ho finalmente recuperato, il primo prodotto, è questa cipria, che sarebbe la polvere di riso, la Velvet Skin Loose Powder, che volevo comprare da anni, ma non mi decidevo mai, siccome la mia cipria, compatta e finita, che è quella poi che uso più spesso, in realtà ne è rimasta pochissimo, però vabbè, mi serviva per una serata, ho deciso di acquistare questa, devo dire che mi ci sto trovando benissimo, è anche la cipria che ho utilizzato oggi, è sicuramente molto secca, tira un po' la pelle, però a me va bene lo stesso, perché io ho una pelle mista grassa, e quindi nelle zone più grasse, questa mi fa comodissimo, ed è però molto sottile, veramente come non avere poi niente sul viso, una volta che si è asciugato, una volta che siete andate col fix spray, e poi sempre di Astra, recentemente sono usciti dei nuovi blush liquidi, questi blush liquidi, si ispirano tantissimo a quelli di Rare Beauty, e io ho recuperato lo 01 Boho, e lo 02 Slick, sarebbero fatti così, sono due rosa, questo è più un malve in realtà, lo 01, molto più intenso, e invece lo 02 Slick è un rosa antico, che è anche quello che indosso oggi, si vede poco, perché poi in realtà sopra sono andata appunto con la cipria, e devo dire che mi ci sto trovando molto bene, anche se continuo a preferire più i toni pescati, perché secondo me mi stanno meglio, e poi di Shig Lab, questi due eyeliner, che avevo visto sponsorizzati su TikTok, ma devo dire che sono pazzeschi, e sono nella colorazione black, e in quella brown, ed è anche l'eyeliner che indosso oggi, e che in realtà ho indossato per tutto il mese di marzo, perché sono estremamente precisi, si asciugano velocemente, resistono per tantissimo tempo, e soprattutto ce n'è tantissimo, quindi assolutamente promossi. Bene, io direi che abbiamo finito con questo video, con i preferiti, come al solito vi invito a lasciare un mi piace, ad iscrivervi al canale, a commentare se avete voglia di chiacchierare, e vi ringrazio per avermi seguita fino ad ora, vi mando un bacio, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!